Ben trovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto con un nuovo videocorso in cui vi mostro una nuovissima risorsa a base di intelligenza artificiale per la scuola e non solo. Parlo di TinyStorye, applicazione web, dunque online e utilizzabile su qualsiasi dispositivo, sito di riferimento, tiny con la Y finale, lo vediamo in alto nella barra degli indirizzi, storie.com. Ringrazio intanto l'amico e collega il maestro Roberto, non ha bisogno di presentazioni, Roberto Sconocchini che ha scritto un post testuale in cui racconta l'esperienza con questa risorsa. Io come sapete tramuto in video e con voi l'esperimento dal vero. Come possiamo osservare questa risorsa intanto cosa fa? Aiuta un alunno, un'alunna ad avere ordine nello svolgimento anzi di un'attività di storytelling e quindi nell'articolare una breve storia. Chi sono i personaggi? Un minimo di trama, la morale. A dimostrazione che l'intelligenza artificiale non è mai sostitutiva di un processo ma si affianca ad esso. Perché se tu non sai neppure cosa sia, chi sia stato, ad esempio, Esopo, cosa sia una fiaba, ecco, calandoti in questa risorsa ne perdi un po' lo spessore. Ma se hai capito come si possa costruire una fiaba, ecco che questo diventa un alleato e può essere uno stimolo di fronte al blocco dello scrittore o quando ci vuole un innesco per poi procedere. Possiamo utilizzare TinyStory in spagnolo o in italiano. Vedete che è Powered by OpenAI che insomma è un'associazione in realtà che vede sotto il suo cappello due progetti che si servono di intelligenza artificiale come Dalli2 e soprattutto ChatGPT. La conoscerete, ne ho parlato anche qui sul mio canale YouTube e poi Powered by Google. Bando alle ciance, io clicco sulla lingua inglese, Hello, posso utilizzare questa risorsa in differenti lingue, vado a cliccare su Login o Sign Up e seleziono il mio account Google Workspace, dunque di istituto, o un account Gmail laddove vogliate, però devo ricordare che se noi utilizziamo la Google Workspace per utilizzo didattico in ambiente scolastico, dobbiamo fare riferimento all'account istituzionale. Qui notate My Stories che avremo anche uno storico poi delle nostre fiabe una volta predisposte. Ma partiamo da zero, io clicco su Create New e compilo i campi richiesti. Ho spostato in una rapida diagonale il mio faccione, clicchiamo su Let's Go e iniziamo. Prima riga fino a 30 caratteri. Scriviamo quali sono i personaggi coinvolti nella fiaba. Un ragazzo, virgola, un gatto. Nome dei personaggi, seguo l'ordine indicato sopra, un ragazzo, Andrea, e il gatto che chiameremo Oreste, il gatto Oreste. Poi, breve theme of the story. Fino a 120 caratteri da digitare. Quindi, un ragazzo trova un gatto abbandonato in una strada buia e lo porta a casa con sé. Reflection, numero 4 fino a 120 caratteri. La morale. Quale morale possiamo trarre da questa breve narrazione? Vediamo un po'. Adesso sto impostando in tempo reale con voi e quindi la morale potrebbe essere che quando ci sentiamo soli, se troviamo qualcuno che si prende cura di noi, ritroviamo la felicità. Bene, impostati i campi, clicchiamo su Let's Make Magic, pulsante giallo. E attendiamo alcuni secondi. Vedete che la stima è di 15-20 secondi. Vi posso dire dai miei test che più o meno la forbice è quella. Per vedere quale tipo di testo avremmo generato. Si badi bene. Un testo generato dalla intelligenza artificiale è sempre ricontrollato, poi deve essere sempre ricontrollato dall'uomo per essere credibile, ma può fungere da innesco, da spunto, per poi strutturare e dare vita davvero ad alcuni racconti. Perché no? Proprio per immaginare attività di storytelling alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, da condividere poi con la classe. Ma è anche un'ottima risorsa che vedo favorevolmente per l'inclusione e per il sostegno. Il tempo di attesa è variabile. Come vedete siamo giunti all'esito. Illustrazione generata dalla intelligenza artificiale. Come avete visto, lo ricordo perché ad inizio videocorso ne parlo, questa risorsa è powered by OpenAI e Google. Quindi abbiamo una intelligenza artificiale che mi sento di dire è ad esempio quella di Dalli2 o magari di Google Bar, dell'intelligenza artificiale di Google che verrà. Ecco, la sintesi vocale che pure è presente è estremamente macchinosa. Quindi mi sento di dire che è abbastanza metallica, poco efficace. basiamoci sulla grandezza del testo ed eccoci qua, come possiamo vedere, il racconto che scorro brevemente con voi. C'era una volta un ragazzo di nome Carlo. Un giorno, bla bla, vide un gatto abbandonato. Carlo decise di prendersi cura di lui. Il gatto era molto affettuoso, si riscaldò subito con Carlo. Carlo decise di chiamarlo Andrea, povero me, ma poi pensò che Oreste suonasse meglio per lui. Oreste diventò infatti il miglior amico di Carlo. Vedete cosa fa l'intelligenza artificiale? Ha un pochino rimescolato le carte rispetto al prompt, cioè a ciò che io avevo scritto. Un giorno Carlo si sentiva molto solo. Quando torno a casa trovo Oreste ad aspettarlo, se vogliamo, e anche sintatticamente e mi sento di dire anche semanticamente abbastanza coerente alla storia. Il gatto gli si avvicinò, iniziò a fare le fuse per poi saltare in grembo a Carlo. Solitudine che scomparve, la morale della storia è che quando ci sentiamo soli, se troviamo qualcuno che si prende cura di noi, ritroviamo la felicità. E non c'è niente di più bello che prendersi cura di un amico vero che ci sta accanto in ogni momento della vita. Con il pulsante azzurro che vedete sotto, io posso andare a registrare la mia voce come voce narrante per accompagnare questa storia. Ribadisco il tasto play, il triangolo. Avete capito perché sconsigliavo di attivare in questo frangente la sintesi vocale automatica? Perché non l'abbiamo ancora in una lingua italiana nativa. Però, converrete con me, e poi lascio a voi la lettura, se vorrete mettere in pausa il videocorso, nel scorrere il testo, che obiettivamente è un racconto semplice, che nella sua semplicità funziona. Ed ecco l'intelligenza artificiale, che al momento, mi permetto di dirlo, non va a sostituire l'uomo, ma migliora ed integra alcune abilità, la possiamo usare così, a fianco, non davanti a noi, a fianco, per supportarci in alcuni processi. E ecco che, in ambito scolastico, lo storytelling, attuato così, assume un'altra veste, ed è un'attività semplice, che poi prevede comunque l'azione dell'uomo nel ricontrollare, rileggere, nel capire, nel fare magari un'attività di sintesi, è spiegare o raccontare, ecco, questa storia generata dalla AI, e allora ho anche un'attività espositiva, quindi un'attività di racconto orale, che posso attuare innescata dalla intelligenza artificiale. Tiny story. A voi la prova su strada. Ancora un caro saluto a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto. Ciao!